Smetti di inseguire una persona specifica e fallo invece, ti inseguiranno. Allora, se tu vuoi, diciamo, conquistare una persona, se tu vuoi conquistare l'amore, devi tenere presente alcune cose fondamentali che noi possiamo attrarre, possiamo conquistare le persone solamente se cambiamo dentro e smettiamo di avere degli attaccamenti. Perché gli attaccamenti ci impediscono di raggiungere gli obiettivi. Il fatto di restare attaccati a una persona, di essere, diciamo, visceralmente coinvolti con una persona, ti impedisce di raggiungere i risultati che vorresti raggiungere. Ora, che cosa devi imparare a fare? Allora, la prima cosa che devi imparare a fare, se vuoi ottenere dei risultati, è Primo punto, tratta gli altri come ti piace essere trattato. O come gli altri, da un certo punto di vista, si pongono nei tuoi confronti. Ma tu poniti in maniera positiva nei confronti delle persone. Questo è un primo punto fondamentale. Se tu impari rapporti in maniera positiva nei confronti delle persone, riuscirai a raggiungere comunque dei risultati importanti. Per quale motivo? Beh, per un motivo molto semplice. Che se tu antagonizzi con le persone, cioè ti poni in maniera negativa, ti poni in maniera, diciamo, ostativa, non otterrai nessun risultato. Anche perché, da un punto di vista karmico, le azioni che noi facciamo ritornano a noi. Quindi questo è molto importante. La seconda considerazione, la seconda cosa che devi tenere presente, ed è veramente fondamentale, ed è veramente importante, è che tutto ha a che fare con se stessi. Cioè tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi sperimentiamo, è di fatto un qualcosa che noi abbiamo dentro. La realtà esteriore è semplicemente una proiezione della realtà anteriore. Quindi inizia a modificare te stessa, te stesso, inizia a sviluppare, diciamo, l'amore per te stessa o per te stesso, e questo ti porterà dei grandi benefici, questo ti porterà dei grandi risultati. Se tu riesci a raggiungere, ad avere una certezza, da questo punto di vista, vedrai che le cose cambieranno notevolmente, le cose potranno migliorare notevolmente, potrai raggiungere nuovi e più importanti risultati. Tutto ha a che fare con se stessi. E il terzo punto, la terza considerazione su cui ti invito a riflettere, è che veramente tutto è riflessione. Le persone si comportano con noi in base al riflesso che noi estendiamo su quelle persone. Se noi, ad esempio, abbiamo autostima, abbiamo forza interiore, non otteneremo mai un narcisista. Un narcisista non potrà mai attecchire con noi, non potrà mai un narcisista insinuare qualcosa con noi. Questo posso garantirti che è un dato di fatto, posso garantirti che è una situazione veramente importante. Noi dobbiamo imparare, diciamo, a sviluppare tutte quelle che sono le nostre capacità, dobbiamo imparare a sviluppare quelle che sono tutte le nostre, tutta quella che è la nostra interiorità per farla diventare la miglior versione di noi stessi. Dobbiamo diventare veramente, cara Malgasciona, diventa la miglior versione di te stessa. E un'altra considerazione che è veramente importante per smettere di inseguire una persona specifica e essere inseguiti è diventa protagonista del film di cui sei regista. Noi possiamo costruirci la nostra realtà, dobbiamo imparare a mettere in atto anche con noi stessi delle affermazioni positive. Dobbiamo imparare a dare forza, valore alla nostra dignità. Se tu fai questo otterrai dei risultati. E poi un quinto punto che è fondamentale e basilare di cui le persone spesso non si rendono conto è che tu devi diventare la persona che vorresti essere. Inizia anche a fingere. Se tu vuoi essere sicuro, inizia a comportarti da persona sicura. Vuoi essere seducente? Inizia a fingere. Recita una parte di persona seducente. Entra in questa parte. Guardati allo specchio. Cammini in un certo mondo. Agisci in un certo modo. Sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna. Hai queste possibilità. Ma devi farlo subito, nel qui ed ora. Perché ogni giorno perso, ogni giorno che non lo fai, è un giorno perso, appunto. Quindi metti tutta questa energia. Perché dentro di te ci sono enormi potenzialità, ma devi svilupparle. E poi il sesto punto è dai valore a te stesso. Non temere. Le nostre paure ci condizionano. Hai paura di non trovare l'amore? Non lo troverai. E poi troverai delle merde con cui stare. Inseguirai delle merde e ti lamenterai poi del fatto che sono delle merde. Ma sei tu che le stai inseguendo. Quindi dai valore a te stesso. Dai valore, diciamo, a quelle che sono le tue potenzialità. Quindi, come altro consiglio che ti do, è quello di lavorare sul tuo software, sul software interno. Quindi trasformi i tuoi pensieri. Inizia a mettere un software diverso nel tuo cervello. Quindi il software del nostro cervello sono i pensieri che noi mettiamo. I pensieri rappresentano un po' il programma, no? Un po' come nell'informatica i software rappresentano quello che il computer, quello che l'hardware esegue. Quindi cerca di modificare il software del tuo computer, del tuo cervello. Quindi inizia a cambiare i tuoi pensieri. Inizia dapprima con i pensieri coscienti e poi piano piano fa sì che questi pensieri diventino inconsci. Puoi anche registrarti magari delle frasi, delle frasi positive. Io sono la persona più importante del mondo. Io ce la faccio. Io ci riesco. Io attraggo amore. Io attraggo ricchezza. Io attraggo... Puoi anche scriverle su dei post-it che ti guardi tutti i giorni. Puoi registrarle e sentirtele prima di andare a dormire. Ecco, questo è molto importante. È un fatto fondamentale che vedrai che ti permetterà di essere inseguito, ti permetterà di trovare quello che veramente stai cercando senza nessuna paura. E poi, diciamo, un altro punto importante è tenere presente che only the brave, soltanto i coraggiosi. Quindi fai degli atti di coraggio, non restare invischiato. Le azioni sono quelle che inibiscono la riflessione. Più tu agisci, meno pensi, meno rimugini. Rimuginare non serve a niente, ti porta solo delle sfighe, ti porta soltanto delle istruzioni negative. Quindi diventa veramente la migliore versione di te stesso. E poi, nono punto, molto importante, devi, diciamo, diventare il centro della tua vita. E vedrai che l'altra persona si adeguerà a te. È un'altra persona che verrà da te. Tu devi essere un punto di riferimento, una pietra migliare, diciamo, nella tua vita e nella vita degli altri. E vedrai che otterrai questi risultati. E come decimo punto, ma non ultimo, è quello di imparare la meditazione. Quindi meditare vuol dire riflettere, vuol dire pensare sulle cose, vuol dire entrare veramente in sintonia col proprio nucleo interiore. Se tu impari a fare questo, beh, i risultati non tarderanno ad arrivare, non tarderanno a venire. Ce la puoi fare, ma per farcela devi veramente mettere energia in quello che fai, devi mettere veramente forza in quello che fai. E vedrai che la tua vita si trasformerà molto, molto rapidamente. Bene. E migliorerà. E questo è il fatto. Bene. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivandola la campanella, così riceverai le notifiche dei miei video. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare.